secondo me oramai appunto è stato fatto ridotto dopo il silenzio di cage insomma a livello di a livello puramente estetico non è che ci stanno tante innovazioni diciamo da fare tutto sta a fare non solo della buona musica ma appunto all'avanguardia secondo me che risiede nei sentimenti e non nelle forme diciamo appunto in cui siamo arrivati adesso per cui non accetto più tanto il discorso a tu sei più tradizionale oppure più dosso oppure tu sei più avanguardia solo perché magari fischi di più corsa sopra non fa il frullato ecco allora io la musica adesso la vedo così un'altra Grazie a tutti.